E' il più antico liceo scientifico d'Abruzzo, istituito da un decreto reggio nel 1923. Il liceo Masci di Chieti festeggia 100 anni di vita con una serie di 8 eventi che abbracceranno la cultura, l'arte, lo sport, la poesia, la matematica, la fotografia nei mesi di ottobre e novembre. A conclusione una serata di gala in programma il 19 dicembre al Teatro Maruccino con la partecipazione di ex alunni diventati celebri e la colonna sonora curata dall'orchestra degli alunni della scuola e l'istituzione di un premio al merito degli studenti. Il centenario sarà celebrato anche attraverso un annullo filatelico. Primo appuntamento il 19 e il 20 ottobre con i poeti Giancarlo Puntigia ed Elisabetta Pigliapoco presso il Museo Universitario di Piazza Trento e Trieste. Per motivi meteorologici è stato rinviato a data da destinarsi il flash mob degli studenti atleti in programma La Villa Domani, tra gli appuntamenti in programma un seminario itinerante di matematica e una mostra fotografica sulla storia della scuola. Il calendario è stato allestito in collaborazione con l'Associazione Gli Amici del Masce, il centenario al patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti. Alla conferenza stampa moderata dalla collega Mila Cantagallo hanno partecipato gli assessori Teresa Giammarino, Manuel Pantalone, il consigliere Ginefra, la preside Sara Sulipaca e il vicepreside Francesco Centobemi. Il Masce come sente la responsabilità di essere il liceo scientifico più antico della Regione? Allora sì, il Masce sente questa responsabilità perché è un punto di riferimento non solo per il capologo ma per tutta la Regione in quanto è il più antico, anche in base agli esiti di quelle che sono le rilevazioni della Fondazione Agnelli e anche dei provi invalsi che registrano dei livelli di competenze di base molto alti. Ci stiamo preparando a questo appuntamento con molta emozione, però allo stesso tempo la consapevolezza di svolgere anche una funzione a livello insomma anche regionale se non nazionale. Voglio ringraziare in qualche modo sia i docenti sia i vari dirigenti che nel tempo si sono succeduti ma veramente chiedo che anche la città abbia fatto la sua parte e il nostro comune da quando noi ci siamo insediati ma anche ovviamente anche il frutto del passato, li abbiamo sempre sostenuti e faremo molto di più in futuro. Abbiamo come amministrazione messo a disposizione della scuola e del dirigente scolastico i nostri impianti sportivi comunali, ci saranno appuntamenti di pallavolo, di basket, delle varie discipline. Abbiamo nello specifico messo a disposizione la struttura del Pala Santa Filomena, la struttura del Pala Colle dell'Ara ma riteniamo veramente che debba essere questo centenario una festa continuativa.